Un furto che ha sospeso l'assegnazione gratuita dei rotoli di erba sintetica risultanti dalla sostituzione del terreno di gioco del campo del Vallato. Questa è stata la spiegazione del sindaco Massimo Seri dopo la denuncia della Lega che ne ha segnalato il ritardo. Ilari, come stanno le cose? Innanzitutto anche noi con il sindaco Massimo Seri ci teniamo a denunciare il furto, fare in modo che si possano interpellare le autorità competenti per capire come sono andati i fatti e chi ha sottratto questo materiale. Però il problema nasce da distante. Dagli inizi di novembre scorso le associazioni che hanno partecipato a questo bando, ricordo 21 associazioni del nostro territorio, aspettano una risposta. E la cosa emblematica è il fatto che correttamente la Giunta aveva predisposto una regola nella quale chi avesse fatto una richiesta maggiore in quantità avrebbe poi vinto il bando. Quindi un'associazione si potrebbe aggiudicare tutto il materiale, bene non capiamo perché questi ritardi. Si dice che ci siano state delle verifiche sulla tipologia del materiale, benissimo dobbiamo essere certi che questa cosa possa andare incontro alle associazioni, però cinque mesi di attesa per un prodotto, per un bene che costa veramente tanto, quindi darebbe una mano veramente importante alle casse delle associazioni che se le possono giudicare, per noi questo tempo è veramente, veramente tanto. Quindi chiediamo all'amministrazione comunale di portare a casa il risultato, ad operarsi, affinché queste associazioni possano godere del bene che dispetta dal bando che hanno pubblicato loro stessi. Quindi secondo voi quali sarebbero le reali motivazioni? Ma il furto non c'entra nulla con le motivazioni adotte dal sindaco e il motivo per il quale ancora siano lì questi rotoli. La verità è che c'è stata un'inerzia, una lentezza da parte dell'amministrazione comunale nel portare a compimento tutto questo ITER. Pensate che 42 rotoli erano lì a disposizione, ne avessero rubati due, tre o quattro, di fatto non cambia il volume, non cambia l'ordine di grandezza. Quindi questa secondo noi è una scusa adotta proprio per giustificare una lentezza della macchina amministrativa che in modo, secondo noi, scorretto non fa l'interesse delle associazioni che militano sul nostro territorio. Associazioni, ci teniamo veramente a dirlo, che dal punto di vista aggregativo e sociale fanno un grande lavoro. Spesso questo lavoro è frutto esclusivamente del sudore pro bono dei propri soci e avere a disposizione un bene che ha questo valore, perché ha un importante valore, il bene di cui stiamo parlando, potrebbe veramente dare una grande mano a queste associazioni. Quindi ripetiamo che non ci interessano le scuse, non ci interessa additare e trovare un colpevole, ci interessa veramente che questa cosa venga portata a termine e che le associazioni che hanno diritto godano di questo bene.